La Regione presenta i dati relativi all'attività svolta dal Collegio Liquidatori del Consorzio di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara. La storia inizia con un debito di 32.849.000 euro causati da voci quali espropri ma i pagati, fornitori da saldare, costi di gestione personale e tributari. Il lavoro di risanamento inizia nel giugno 2015 quando l'attività di revisione delle scritture contabili mette in luce che la quasi totalità delle poste contabili scritte in bilancio risultano errate. Abbiamo affidato ad un collegio la verifica puntuale dello stato dell'arte, la verifica delle attività e delle passività e arriviamo ad una situazione che possiamo dire tendenzialmente problematica in termini di passività accertate. Stiamo su intorno ai 30 milioni di passività e pochi milioni di attività, passività dovute soprattutto a mancati pagamenti dei fornitori, a mancati pagamenti degli espropri, appunto che incide pesantemente anche sul bilancio e da qui la necessità di risolverlo, poi c'è la voce sui personali dipendenti e sui contributi previdenziali. La Regione ora, dopo aver chiarito il quadro debitorio e soprattutto le cause, pensa anche ai rischi in corso. Se si pensa che alla voce spropri e non pagati corrisponde la cifra di 18 milioni e 816 mila euro coinvolgendo arterie primare come l'asse attrezzato, ora la questione si concentra sull'attività che dovrà essere messa in campo per evitare la cosiddetta richiesta di retrocessione dei beni da parte dei proprietari dei terreni, e cioè riprendersi una proprietà che oggi veicola i principali flussi di traffico abruzzese. Noi abbiamo avviato una interlocuzione in questi mesi con Anas e abbiamo di fronte a noi la possibilità di risolvere il problema. Di fatto chiede a Anas di farsi carico di ciò che il consorzio non si può fare carico per delle ragioni importanti, cioè che i proprietari potrebbero fare azione nei confronti dei sedimi che hanno ceduto a titolo di espropri e che oggi lo potrebbero riprendere indietro. Se fosse così l'Anas attrezzato chiuderebbe.